Un saluto a tutti e ben trovati, sono particolarmente lieto di ospitare un grandito ospite come Alexander Dugin, benvenuto. Grazie. Alexander Dugin è un politologo, un filosofo, artefice della quarta teoria politica che tutti voi potete vedere, sfogliare e leggere per la verità con qualche difficoltà in più rispetto a un tempo perché sappiamo che qualche grande circuito di vendita commerciale delle pubblicazioni ha incominciato a piantare paletti da qualche tempo. Per chi fortunato è riuscito già a ordinarlo prima, la quarta teoria politica rappresenta il parametro, almeno a mio avviso, di quello spartiacque che indipendentemente da dove ci si situa è necessario intravedere nella scelta di un futuro non solo politico ma amministrativo e culturale. Siamo in un'epoca di passaggio e da qui partirei e questa epoca di passaggio necessita di guardare alla realtà sulla scorta degli sviluppi storici, tecnologici, economici e sociali che questa epoca ha dettato. Alexander Dugin è ospite e protagonista di un tour italiano organizzato da Re Europa, capitanato peraltro da Daniele Bertello che è un amico che saluto a distanza e che ringrazio perché è anche grazie a lui se Dugin è presente negli studi di Rete 55. Però io partirei da una considerazione, che questo tour contrassegnato da diverse date, da diversi incontri, da diversi temi sempre molto partecipati è stato un po' ostacolato, viene ostacolato, qualche organo di informazione, qualche realtà mediatica si sta tirando indietro. Professor Dugin, perché lei fa paura? Sono chiamato anche da alcuni giornali americani, il filosofo più pericoloso del mondo, credo che si tratta non del mio comportamento ma delle idee, si tratta che le mie idee sono molto critiche rispetto al liberalismo che è ideologia egimonica e dominante, sono illiberale, ma liberalismo che alcuni pensano come la libertà data all'espressione, alle idee, alle posizioni, non è così, è una ideologia totalitaria che vuole nascondere la sua natura. Perché è totalitaria? Quando noi possiamo leggere il libro, il libro come il programma del liberalismo moderno, la società aperta, dimentichiamo il suo sottotitolo, la società aperta è sui nemici, e chi sono i nemici delle società aperte? Tutti che non sono liberali. Per questo è un'ideologia, ottiene il carattere repressivo totalitario perché dichiara che tutti che non sono d'accordo con il liberalismo sono nemici del liberalismo, nemici ideologici. Ma nella storia i correnti illiberali o antiliberali erano rappresentati dai fascismo e comunismo, che erano antiliberali. Per questo oggi ognuno che critica il liberalismo immediatamente sta qualificato come il fascista o il comunista stalinista, è per questo demonizzato, dichiarato pericoloso, dichiarato extribista e sta sotto repressione. Credo che questo sia molto importante. liberalismo o liberismo non è la cosa che vuole apparire o manifestarsi, è un'ideologia anche totalitaria, come era comunismo e fascismo. Voglio io sviluppare la critica del liberalismo attuale senza cadere nel fascismo e comunismo. e questa è l'idea generale e essenziale della quarta teoria politica. Perché quarta teoria politica? Perché questo è l'invito di criticare prima teoria politica, liberalismo, senza accettare ideologie della seconda teoria politica che è comunismo, e terza posizione o terza ideologia politica che era fascismo e nazionale e socialismo. Quando si tratta di mettere in discussione la quarta teoria ci si riferisce ad Alexander Dugin. Lei è una persona e qui presente si può discutere. Quando lei mi dice che il suo contendente è il liberalismo, a chi si riferisce? Cioè fondamentalmente di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di lobby, di persone, di politici, di imprese. L'anti-Dugin chi è? È una persona o è un sistema? Sistema, non persona. Oggi sono persona, ma non solo persona. Perché la quarta teoria politica, questo libro sta tradotto quasi in tutte le lingue. e la traduzione iraniana, arabe, in tutte le lingue europee, inglese, spagnole, in tutti, anche in turco e c'è una traduzione in cinese. Questo è il sedio che non si tratta di una persona, sono rappresentante di questa posizione critica rispetto al liberalismo dominante, che sta rappresentato, non dal gruppo delle persone, ma questo è il paradigma globalista attuale. Viviamo nel mondo liberale dove il liberalismo, il dovere è una ideologia dominante, egemonia liberale, come Gramsci diceva, viviamo sotto il controllo. Il liberalismo è un grande fratello che sta in tutte le parti, ma non possiamo identificare dove concretamente. Tutte le elite globaliste sono liberali, educazione, politica, economia, tutti i valori dominanti globalmente sono liberali. Per questo, davvero, criticare o opporsi a questa dominazione, a questa egemonia, è pericolosa per me, per tutti che seguono queste idee, ma anche per egemonia, perché questo si chiama la lotta ideologica del 21 e 1 secolo, nuova, e per questo liberalismo vuole identificare tutti i suoi nemici con la visione vecchia, con la visione che tutti che sono contro sono i fascisti o i comunisti. Ma quando non siamo né fascisti né comunisti, quando siamo antifascisti e anticomunisti, ma anzitutto antiliberali, per noi non c'è il posto, siamo perseguiti dal liberalismo dominante e questa repressione e questa demonizzazione manifesta questa natura totalitaria di queste egemonie. In questa lotta, anzitutto, bisogna identificare che è e dove sta questo liberalismo. Sta da tutte le parti, sta in tutto. Infatti, poi, quando io ho seguito gli incontri di Alexander Dugin, parla spesso di una battaglia, prima di tutto, culturale, prima ancora che politica. Però, dopodiché, oggi lei è ospite di un tour in Italia dove governano Lega e 5 Stelle. E Lega, la Lega di Salvini, ha sempre detto che lei è un riferimento, che la Russia di Putin e lei, dal punto di vista intellettuale, siete riferimenti. Allora, cosa vuol dire? Che dal suo punto di vista l'Italia si sta muovendo nella direzione giusta? Lei sostiene questo governo? Assolutamente, assolutamente. Credo che il populismo, precisamente, è un sforzo di andare oltre questa egemonia liberale, oltre questo globalismo, oltre questo corso di elite che non rappresentano più la volontà popolare. E questo populismo, di destra o di sinistra, ma io preferisco di parlare del populismo integrale, non sarebbe né destra né sinistra, ma che rappresenterebbe la volontà popolare che non può più, storicamente, essere presentata né con liberalismo, né con comunismo, né con nazionalismo o fascismo. Tutte e tre ideologie dominanti nella modernità non servono più per rappresentare questa volontà popolare. e il populismo è precisamente il segno che è così, che questa situazione arriva, che dobbiamo andare oltre queste forme, ideologie politiche della modernità. Precisamente la onda del populismo coincide storicamente, culturalmente, con il passaggio dalla modernità verso postmodernità. Ma che postmodernità è? Qualcosa è postmodernità? E credo che è possibile di concepire postmodernità nella perspectiva della quarta teoria politica, come il ritorno della democrazia vera, dimenticata nell'interpretazione, sempre ideologica, delle democrazie liberali, democrazia popolare, socialista, o democrazia, o non democrazia totalitaria fascista e nazionalsocialista. Ma il nazionalsocialismo è anche arrivato al potere con elezione. Per questo credo che tutte le ideologie moderni, liberalismo, comunismo e fascismo, sono le perversioni della vera democrazia. E credo che la quarta teoria politica, precisamente, come la base intellettuale del populismo crescente, precisamente, è il ritorno alla democrazia vera, alla democrazia originale e alla ripresentazione giusta della volontà popolare. Però lei ci sta parlando di un sistema politico che è in cammino, è una fase di passaggio. La fase di passaggio sconta, forse, scarsa preparazione. L'impressione è che ci sia la determinazione e il consenso della gente dato dalla volontà di rompere uno schema, di guardare un po' più in là in modo diverso. Poi, però, serve anche la capacità di fare, di costruire, di tradurre in fatti e in realtà ciò che a parole si è annunciato e che va in controtendenza rispetto a ciò che c'era prima. Questa rischia di essere un'epoca di passaggio difficile, dolorosa. Quanto può durare? Cioè, la componente culturale che lei rappresenta, si fa fatica a vederla, spesso, in chi governa? Credo che il processo davvero è molto, molto difficile, perché non ci sono le soluzioni pronte. Bisogna improvvisare, bisogna cercare le risposte alle sfide che non sono banali, che non esistono. Per questo non è facile di dire che il governo presente è manifestazione della quarta teoria politica. Non è nulla, ma la tendenza stessa, la volontà del popolo che appoggia Lega e che appoggia 5 Stelle, un poco meno, nella situazione attuale, ma che appoggia questa tendenza populista in generale, precisamente domanda e domanda e richiesta di trovare questa soluzione. Non è facile, perché bisogna immaginare il futuro, oltre immaginazione dei liberali, dei liberisti, dei progressisti totalitari e elite a lotta contro questo. Mi sembra la situazione nell'Europa attuale molto simile a ultimi anni dell'Unione Sovietica che ho vissuto. Tutti i comunisti, negli ultimi anni, avevano anche tutto il potere, controllavano tutto, tutti i processi, ma già la volontà popolare non era d'accordo con questo paradigma e il cambio era necessario e imminente. Per questo credo che l'Unione Europea sta nelle stesse situazioni. Secondo me crollerà, ma bisogna non ridersi, non essere contenti di questo crollo, bisogna pensare oltre perché il sistema liberale crollerà perché non corrisponde più alla domanda della volontà popolare e il populismo distruggerà questo sistema, ma che verrà dopo. E credo che bisogna concentrarsi anche su questo progetto del futuro che non può essere politico oggi, che deve essere culturale precisamente, filosofico, bisogna immaginare il futuro alternativo e credo che a Lega, a Cinque Stelle, al populismo generale europeo e italiano falta oggi precisamente questo progetto intellettuale. Sono gramsciano nel certo senso e credo che bisogna creare nuovo patto storico tra intellettuali e organici con il popolo. nel tempo di Gramsci, il patto storico era fatto o con il capitale o con il lavoro, ma nella situazione attuale, postmoderna, nel certo senso, questo patto storico tra intellettuale e organico deve essere fatto o con il popolo o con l'elite globalista. e questa è la sfida a tutti gli intellettuali italiani e europei, perché oggi non è importante essere di sinistra o di destra. Tutta questa lotta tra sinistra e destra appartiene al passato, secondo me. è attuale altra scelta, la scelta tra il popolo o i popoli europei che vogliono il ritorno alla democrazia dimenticata e pervertita con ideologie moderne dominanti o stare al favore del sistema della legimania liberale che finisce. Questo è il passaggio drammatico, perché niente è sicuro o certo in questo passaggio, è il passaggio rivoluzionario propriamente detto. E credo che stiamo nel momento della rivoluzione populista e che l'idea stessa che l'elite liberale fa del populismo, che non è un insulto, manifesta la sua natura antidemocratica. Non credono nel popolo, disprezzano il popolo, questi circoli che hanno tutti poteri burocratici, ma non sono più democratici. Credo che questo populismo debba essere ripensato e il populismo non è insulto, è la volontà popolare e credo che la gente che usa il termine populismo nel contesto negativo sono antidemocratici, sono anticonstituzionali, perché il popolo nelle Costituzioni europee è il portatore del più grande e primordiale potere, sovranità e legittimità. Le faccio un'ultima domanda che necessiterebbe di più tempo come tante altre, ma insomma il tempo è quello che è. L'è stato dato del comunista, l'è stato dato del fascista, l'è stato dato del guerra fondaio, di tutto e di più. L'è stato dato anche del razzista. E in questo momento noi viviamo tensioni dovute ai flussi migratori, alle persone che si muovono dall'Africa soprattutto. Ecco, che cosa pensa del fatto che il popolo, che magari non legge la quarta teoria o la legge solo in parte, rischi di tradurre in termini razzisti delle istanze che non partono da una discriminazione di razza, ma magari partono da un disagio, da un problema oggettivo. Cioè, quello che le sto dicendo è, il populismo, a ragione lei, non è un insulto, perché il termine populista non è negativo di per sé. Però talvolta rischia di tradursi nella facilità di spiegare in modo troppo semplice problemi molto complessi. e la conseguenza di questa rischia di essere la discriminazione, l'intolleranza, la violenza. La quarta teoria politica ha una parte grande dedicata alla critica del razzismo. Questa è l'ideologia antirazzista. È precisamente multipolarità che sta al centro del pensiero delle quarta teorie politiche è l'ideologia antirazzista. Occidente era sempre un poco razzista. Razzista biologica prima, razzista culturale o tecnologica oggi. Credo che precisamente l'espressione più grande e più pura del razzismo è globalizzazione che vuole imporre a tutti i popoli un sistema unico dei valori, dei strutturi che corrispondono a certo sviluppo della civilizzazione occidentale che sta considerata dal globalistico universale. Ma questo non è universale. Una parte dell'umanità vuole imporre i suoi valori a tutti dichiarando questi valori universali. È una forma del neocolonialismo razzista. In questo senso la quarta teoria politica è antirazzista anzitutto. È assolutamente assurdo di pensare che c'è un qualsiasi rapporto tra quarta teoria politica e razzismo. È antirazzista e anche sono admiratori di Claude Levis-Strauss dell'antropologia antirazzista propriamente detto pluricentrista, pluralista. Credo che non sia possibile far comparire tra una società e altra. Non esiste esempio universale che è buono, che è più sviluppato, che è meno sviluppato. Tutte forme di fare questa comparazione tra le società è propriamente già razzista che dobbiamo evitare. Ma il populismo deve essere il populismo culto. Il populismo... Non diminizzare il populismo, ma fare educazione del popolo per essere se stesso senza cadere nelle soluzioni semplicisti, senza cadere nel xenofobia o il razzismo... Sì, la discriminazione più... La dimiscrezione della vita normale. Ma questo non è il populismo. Questa è una reazione della gente organica e naturale che deve essere trasformata nelle visioni corrette del populismo. In questo senso, quando elite liberali vogliono demonizzare il populismo, fanno del populismo questa caricatura. e la gente comincia a comportarsi come questa caricatura. Bisogna spiegare che non i migranti sono il problema, ma il sistema liberale capitalista cosmopolita che per le ragioni economiche e anche con sue ideologie dei diritti dell'uomo che è anche la formula razzista perché concipe uomo come uomo liberale occidentale non come uomo sta rappresentato nelle altre tradizioni. È una forma di egemonia anche antropologica. Per questo credo che bisogna spiegare che la colpa non è nei migranti poveri che hanno perduto i suoi radici che hanno perduto la sua patria che sono nelle situazioni difficili e drammatiche della sua vita sono i vittimi del liberalismo e non criminale. Ci sono alcuni criminali e bisogna lottare contro criminalità nelle case dei migranti anche come nelle case europee. La legge deve essere centrale e applicabile a tutti. Questa è la domanda della condizione della democrazia. I popoli stessi hanno tutto il diritto di scegliere suo cammino nel futuro che qualcosa del passato bisogna essere conservato e che qualcosa del passato deve essere cambiato. Questa è la volontà popolare democratica in questo senso i migranti la gente che arriva in Europa deve entrare nel questo processo dell'identità dinamica non distruggere accettare queste regole e seguire. Questo credo che con il populismo culto sviluppato con il populismo intellettuale anche è il dovere dei intellettuali organici che hanno fatto il patto storico con il popolo il dovere di fare questa educazione del popolo anche. Grazie. Grazie Alexander Dugin è stato un piacere averla ospite buon proseguimento per il tour italiano grazie a lei e grazie a voi tutti per l'attenzione grazie a Europa per questa occasione arrivederci grazie a tutti